Salve da Enjoy Viaticus, ci troviamo a Tel Aviv, nel quartiere più antico della città, Neve Zedek. Praticamente si sviluppa attorno alla via, dove ci troviamo adesso, Shabazi Street. È un quartiere molto interessante perché, sebbene sia veramente molto vicino al market Carmel e al cuore del quartiere Yemenita, molto chiassoso, pieno di negozi e di ristoranti, questo quartiere è molto tranquillo, un'atmosfera veramente diversa, sembra di essere in un'altra città. E merita una visita, quindi si vedono tanti negozi artigianali, caffè, bar. È molto autentico e rimanda insomma a una Tel Aviv diversa. Quindi non mancate di fare una visita a Neve Zedek, questo quartiere che poi praticamente scivola verso la parte del lungomare e non lontano anche dal porto antico di Jaffa. Contattateci per tutte le informazioni relative a una visita alla città di Tel Aviv. Non vi fate spaventare dal fatto che possa essere lontana, poche ore di volo dall'Italia diretta si arriva qui. Quindi un weekend lungo è possibile abbinare Tel Aviv a Gerusalemme e comunque godere di una città che ha tantissime attrazioni storiche, artistiche e anche tanta movida e tanto divertimento. Contattate Ingeviaticus per tutte le informazioni. Contattate Ingeviaticus per tutte le informazioni.